Al Governo e al Ministro della Salute in particolare sto chiedendo insistentemente di chiudere questa telenovela che è assolutamente insopportabile e intollerabile. Così il Presidente della Regione Calabria, Mario Olivelio, rispondendo ai giornalisti al margine dell'apertura dell'anno giudiziario della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria in merito alla mancata nomina del Commissario straordinario per il piano di rientro del deficit sanitario in Calabria. Sono tanti i problemi che bisogna affrontare, ha aggiunto Olivelio, per rimettere in piedi e la sanità in questa Regione. In Calabria abbiamo bisogno di un servizio sanitario efficiente, mentre si sono verificati casi paradossali come per esempio l'investimento nella struttura di cariochirurgia di Reggio Calabria, completata da tre anni e non utilizzata, mentre dall'altra parte abbiamo una mobilità passiva di tanti calabresi che, per tutelare la loro salute, ricorrono all'esterno proprio su questa patologia. È un paradosso, ha concluso il Presidente, e noi dobbiamo lavorare per superare questi paradossi perché la sanità si rimette in piedi nella nostra Regione. Era naturalmente stizzito il Presidente quando gli giornalisti hanno posto la domanda sul Commissario di Governo per la gestione della sanità. Non ha resistito e ha ammonito il Ministro. Non sappiamo se questo sarà l'inizio di uno scontro con la compagine governativa. Certamente Oliverio è uscito allo scoperto e ha mandato un segnale chiaro al Senatore Gentile e Company sulla sanità in Calabria. Non si scherza.